Un anno da sindaco di Vicenza, anche oggi siamo nell'ufficio del sindaco Francesco Rucco per verificare insieme la realizzazione dei punti previsti nel contratto firmato con Rete Veneta. Abbiamo già scorso la sicurezza, il centro storico, il commercio, il turismo, il crack BPV, oggi parliamo di sociale. Sociale, la prima cellula della società è la famiglia. Mi impegno a investire sulle giovani coppie e sulle strutture per gli anziani e per disabili. Accoglienza diffusa per i profughi dopo aver mappato le strutture disponibili, alla sotturazione delle quali non si accetteranno nuovi richiedenti asilo. Direi che il sociale è uno dei punti salienti della sua amministrazione. Sì, è uno dei punti salienti. Facendo anche un po' di autocritica va detto che però si poteva fare molto di più. Abbiamo trovato, e questa è stata una delle cause a cui mi riferivo all'inizio delle nostre interviste, un comune distrutto in macerie. Il sociale ne ha risentito. Dopo anni di inerzia anche sul sociale non avevamo le risorse per poter sostenere alcune cose con anche un problema di bilancio e un buco di bilancio importante. Stiamo però nonostante questo dando risposte a tutti sia sugli alloggi che per quanto riguarda i contributi delle famiglie e soprattutto per i profughi rispetto all'accoglienza diffusa che oggi deve essere regolamentata. Allora andiamo al prossimo punto. Strade. Mi impegno ad asfaltare le strade e i marciapiedi dissestati a riqualificare gli edifici in stato di abbandono nei quartieri. In centro, con regolamento comunale, si obbligheranno i proprietari a ristrutturare le facciate dei palazzi storici per motivi di sicurezza e di decoro. Questo è uno dei punti salienti del contratto di Rete Veneta, soprattutto per quanto riguarda l'obbligo per i proprietari dei palazzi storici di manutentarli, perché è una questione di sicurezza e di decoro per la città del Palladio. Beh, diciamo che rispetto a questo tema c'è lo studio e l'esame di un regolamento che possa permettere al Comune di intervenire. Noi in alcune zone siamo intervenuti con delle ordinanze ad hoc, come quella di Via dei Montecchi nella zona di Ponte Alto, dove c'erano delle situazioni di abbandono e di degrado. Siamo intervenuti obbligando i proprietari a intervenire e ripulire. Poi per quanto riguarda strade e marciapiedi, in particolare le asfoltature, ci saranno circa una cinquantina di cantieri, 30 anche molto impattanti in città, quest'estate, e sono tutti lavori stradali, sia di manutenzione che di miglioramento appunto del flusso viabilistico, che ci permetteranno quindi di avere delle zone migliori anche in termini di asfaltature di strade e marciapiedi. Bene, ringraziamo il sindaco Francesco Rucco, continueremo domani a verificare il contratto di Rete Veneta, quindi continua.